musica 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 Adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la Presidente dell'Associazione ADA e con cui collaboro con la DILA del NISAV. Ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molto sacrificio venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola con lei, Dale Bocalfa. Grazie, buongiorno a voi. Sono Danila Bocalfa, Presidente della Sede Operativa DILA in Algeria e poi ho l'Associazione ADA, pure Algeria, che ha una sede aprile nella mia città, quindi io. E vi ringrazio a voi presenti e ringrazio Bruno e tutta la scuola tra di me. Allora, quindi siamo adesso al premio giornalismo. Allora, al quinto posto abbiamo Adriana Iftini Cerovi, simbolicamente la scrittura, con 103 voti. Ancora Adriana Iftini Cerovi, simbolicamente Ischia, con 103 voti. Il quarto posto è a Liga Sara Lapinsca, le canzonette, con 108 voti. Il terzo premio che sarebbe a Daniele Bartocci, con gli investimenti digitali, 204 voti. Il secondo premio di giornalismo è a Angelo Maria Iftini Cerovi, la vera amicizia, 207 voti. Il primo posto è a Simbana Garzalino, ha scritto, ha fatto un'intervista con Adriana Iftini Cerovi, con 339 voti. La parola a Maria. Allora, anche per Simbana Garzalino diciamo due parole per illustrare questa nostra amica. Simbana Garzalino è nata a Roma, dove vive e lavora nella pubblica amministrazione. Dopo la laurea in lettere si è dedicata al giornalismo, con particolare attenzione a recensioni di film e mostri d'arte. Tra le collaborazioni in questo campo vanno ricordate quelle con la Dicata e con il quotidiano giornale. Attualmente è scritta recensioni di mostre d'arte e di eventi per alcuni periodici online. Scrive anche sul quotidiano cartaceo di Gispari, che esce a Napoli e a Eris, che è navigato allo storico quotidiano al mattino di Napoli. E sulla rivista finestrale in Donna, editata in sé stante, di Maria Pia Cerovi. Ha scritto inoltre la prefazione al libro Sex Affili pubblicato nel 2015 dal fotografo delle dite Bruno Lignano. Gli notevole interesse al giornalismo sono tutte le interviste rilasciate a lei in esclusiva, con le quali Silvana Dazzalino ha definito carattere i comportamenti artistici e sociali di numerosi e importanti personaggi pubblici, quali Vincenzo Savarese, giornalista sportivo, Elisa Panone, avvocato istitutrice, Cleide Roppico, l'esilista di Icone, Patrizia Canolla, pittrice, Milena Petrarca, pittrice, Angela Maria Di Bello ed essa. La storia qualificata è stata la sua collaborazione nell'istitutore delle mostre d'arte italiane. Articoli, compubblicati in stampa e cataloghi pubblicati in sua firma, compaiono nella divulgazione di importanti e prestigiosi eventi artistici e culturali italiani. Accanto all'arte e al cinema, Silvana Dazzalino, socia sostenitrice dell'associazione da Estia L'Arte e Nina, ha la passione per la poesia. Pertanto, ha partecipato a diversi concorsi di poesia, giugendo il finale e ottenendo importanti riconoscimenti in gran numero di casi, tra i quali ci piace indicare il secondo posto assoluto ottenuto alla quinta edizione del Cale Internazionale di Poesia a 8 milioni, con la poesia di Ipacio. La diffusione della sua attività poetica ha pubblicato tre raccolte diversi. Cosmogonia, edito da edizione del progetto Cultura del 2013. Oltre le immagini, tra visore ed emozione, edito nella pagina nel 2014. La seduzione dell'immagine, dall'arte ai versi poetici. Alba González, Patrizia Canola, mie muse ispiratrici. Edito dal centro tipografico liturghese e editore nel 2017. Grazie.